Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal Se ancora non lo avete fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere mai nessunissimo video Oltre tutto oggi è sabato quindi alle 19 Come sempre ci sarà la live su Minecraft Eternal Mi raccomando non mancate Perché sarà forse l'ultimo episodio sulla terra Prima di andare ovviamente nello spazio aperto e in altri pianeti Sì ragazzotti perché effettivamente abbiamo farmato abbastanza di litio Continuiamo a farmare un pochettino Mi sembra che secondo un vostro grancolo veloce Non mi sono nemmeno accertato se fosse vero o no Ma più o meno eravamo lì Servivano circa 2 stack e 5 e 10 Per fare avanti e indietro Beh direi che potremmo fare avanti e indietro un bel po' di volte Quindi cosa andremo a fare oggi se abbiamo il dilito per partire E potenzialmente abbiamo tutto Intanto vi mostro una cosettina che ho fatto In questo momento come vedete io ho la tannica di ossigeno in basso a destra Ma ho la mia armatura, non ho più l'armatura di prima Questo perché andando a mettere qualsiasi armatura Nel chemical reactor con un diamante Veniva diciamo sigillata tra virgolette Questo per non avere perdite di ossigeno nello spazio Mentre il corpetto poteva essere unito alle super height pressure tank Cioè a dire una cosa molto strana Le super height intanto l'ho fatte col titanio Nuna di particolare veramente facilissime da fare Contengono 8000 luna Due tanniche quindi 16.000 Non so perché su come le ho messe nella mia armatura Non contengono più 8.000 luna ma 16.000 luna Quindi in tutto 32.000 Non capisco se è un bug o robe simile Infatti guardate c'ho 5.000 5.000 dovrebbe essere praticamente metà tannica Quindi un quarto di tutto Vado qua sopra Ragazzi non si è riempito quasi di nulla Cioè oddio Si è riempito un bel po' Però boh o ne ha messo molto di meno dentro O c'è qualcosa di strano Guardate anche questa tannicozza qui Da quanto è? Da 1000 Quindi dovrebbe essere un sedicesimo di tutto Ma no non è vero Non lo è mai nella vita Vabbè non importa non importa E adesso tanto una cosa che volevo farvi vedere Oggi realmente torneremo nello spazio Precisamente sulla nostra stazione spaziale Che trasformeremo in navicella spaziale Dovrei già avere tutto Voglio anche portarmi un po' di litio Per fare una provettina a caso Direi che siamo pronti Non perdiamo tempo Partiamo Tanto ormai la strada la sappiamo Quindi c'è Si parte Si atterra E buon si fa tutto What? Perché sono nello spazio Ma vedo questo chunk ruptissimo Cioè vedo casa Quello è palesemente casa Ma infatti sono atterrato qua Ok Non l'ho ben capito Ma nel dubbio non importa Come vedete sono vivo Questo è l'importante Allora Andiamo qua dentro un attimo No non è vero Devo salire qui L'ho messo su fast In teoria Quindi ok Se andiamo qua giù Dovrebbe essere normale Mi sembra aver capito Che devo metterci Non uno stack Perché uno stack diventa invisibile Invece non è diventato invisibile E con due stack Si dovrebbe tipo Attivare Boh raga io Io ce ne metto tre stack dentro E no qua non sembra ancora attivo Quindi effettivamente strana come cosa Proviamo a selezionare un pianeta E no rimane disattivato Vabbè ci penseremo in futuro Anche perché vedete Core status not ready Quindi effettivamente Non è pronto Non è che magari vuole qualcosa Tipo Veramente di stupido Tipo una leva No vabbè raga Sarebbe cringissimo Far funzionare tutto questo Con una leva E infatti non va Non è attivo il core E non so per quale motivo Però tecnicamente Abbiamo tutto per farlo funzionare Però siccome io ho paura Di fare cazzate Dove finita tutta la mia roba Ah è diventata invisibile Non so raga Si bugga un pochettino ogni tanto Forse ci deve rimanere Tanto tempo dentro E poi si attiva Vabbè vedremo poi Stavo dicendo Qui ho messo anche Dei dati dentro Della distanza Della massa E della composizione In modo da poter scannerizzare E cercare i pianeti Infatti con 100 dati Potremmo scannerizzare E trovare i pianeti Parte questa animazione qui E poi quando arrivo alla fine Non so se al 100% Trovo i pianeti Se ci sono O c'è una probabilità Di trovarli Io per test L'ho già fatto due volte E non ho trovato Assolutamente nulla Infatti qua Vedete ci sono sempre I stessi pianeti E se vado in alto C'è stato tanto questo sistema solare Quindi realmente Non so cosa vado a trovare Questa roba Ma non preoccupiamoci Questa qui sarà la parte In cui andremo a comandare La nostra astronave Quindi vorrei fare Una mega alla sinistra E una mega alla destra E renderla un pochettino Un pochettino simile Effettivamente A un'astronave Di Star Wars Vorrei fare Un mischio Tra un'astronave Normale di Star Wars E un incrociatore Intanto qui è finito Però suppongo Che non abbia portato A nessun risultato Vero? Infatti sono sempre I soliti pianeti Boh vabbè Sarà Quindi ho preso Svariati stack Di iron E cominciamo A costruire Ragazzotti Qua dietro Sarà la parte Angar Intanto Che poi Ovviamente Per renderlo funzionale Non sarà un hangar Ma sarà Realmente una piattaforma Di lancio Come vedete Questa qui Soltanto che Sarà più in basso E fatta con i blocchi giusti Per farla Meno cubettosa possibile Potrei cominciare A dare una forma Non precisa precisa Ma un pochettino Verso il basso E un po' verso l'alto Infatti che qui Torna bene Perché c'è il pavimento Qua sopra invece Farebbe un po' schifo Quindi Lo lascierei anche così Per il momento E poi qua davanti Deve essere Molto 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 lungo E la zona Che realmente Stiamo andando a creare Sì è vero Che principalmente Solo estetica Però è una cosa Momentanea Perché in futuro Ovviamente Potrei andarla a utilizzare Ho già qualche idea Perché devo effettivamente Mettere da qualche parte L'ascensore Giuro Non so dove metterlo Almeno facendo questa mega ala Bene o male Dover riuscire a fare qualcosa Poi di qua Potrei provare A andare Già verso l'esterno Facendo una texture Di 1, 2, 2 Così in quel punto Crea una cosa Diciamo un pochettino Più ripida Potremmo definirla Mentre qua La voglio molto più allungata E morbida Cavolo Costerà tantissimo ferro Spero di averne presa abbastanza Ma sinceramente Ho un po' di dubbi Comunque La linea che prende qua davanti Da 3 mi piace Il fatto è che poi Il fatto è che poi risulta Troppo corto Da questo lato Quindi forse Ancora i due Così va bene Ok Alzo perché 2, 4, 4, 4 3, 3, 3 E dovrei in teoria Di averlo replicato Sto scherzando Ovviamente Non l'ho decisamente fatto Ok Ora però ci siamo E' uguale vero? Sì sì E' uguale E' uguale Diciamo che ecco La forma d'astronave Ce l'ha un botto E mi piace tantissimo Spero che comunque Qua si capisca Realmente cosa voglio fare Una roba abbastanza semplice Però secondo me Deffetto Poi siccome Non so Quanto ferro ci vorrà Ancora Ne ho tantissimo Però potrebbe non bastare Magari ecco Non lo ricopro totalmente Di ferro E in certi punti Prendiamo farli Sto cadendo A parte che ho visto La morte in faccia Prima cosa Seconda cosa Sono caduto di sotto Quindi sono tornato Indietro nella stazione Non si può morire Cioè non è che sono morto E sono rinato nella stazione Non sono morto Tipo Come se fossi collegato Con un cavo E mi ha riportato su Meno male Sarà Quella era morte Quella era morte sicura Comunque stavo dicendo Sì vorrei magari fare Intanto il contornino Così come vedete qua Che più o meno è la sagoma Poi In casi Potrei metterci il vetro Qua però Non so se farlo Totalmente squadrato Così È brutto Indubbiamente brutto Ma è un punto di partenza E bisogna cominciare da quello Mi sa che andremo A costruire insieme Soltanto metà Sto una nave oggi Perché Non ho mai nella vita Veramente tutti questi materiali Qui che dovrei avere Ne ho ancora molti stack Se è chiaro Cioè nell'inventaura Ne ho due Ma nella cesta generale Ne ho ancora tanti Perché ho fatto un po' Rifornimento Però sinceramente Uff Non ci siamo qua Non ci siamo per niente Ok Vediamo come viene Allora sinceramente Squadrato così È un po' Bruttino Non lo metto in dubbio Quindi Oh mio dio Regà No Andrebbe fatta tipo Un po' appuntito Sostanzialmente Oppure ecco Potrebbe essere interessante Con delle rientranze Tipo magari qui Lo faccio così E ricado di sotto Io Io Non Boh Vabbè Ok E giustamente Torno qua Ma poi perché Cado di sotto Cioè io sto volando Perché ho l'anellino del volo Che non sta più andando In questo momento What Ok no Li posso volare Non lo so Ovviamente c'è della super gravità Si vede Comunque Stavo dicendo In certi punti come questo Ho già un pochettino alzato Però Se in altri punti così L'alzassi ancora un pochettino Forse darebbe Quella forma All'astronave Che tutto sommato Non sarebbe male Anche qui magari La metto un pochettino Più in alto In quel punto Poi in basso di là E ha quella forma Un po' più figa E magari potrei anche qui Levare questo pezzettino Insomma Alzarlo un po' di più Ora non trovo Perché se no Poi non so dove mettere le cose E non ha senso farlo nel pezzo di sotto E poi nel pezzo di sotto Perché poi qua Sembra tipo Bruttissimo Ma Ammetto Che Non mi dispiace Più di tanto Quindi intanto Tappo di qua E ok Sembra un mattone così Però alla fine Noi guardiamo sempre da sopra Da sotto E robe simili Quindi Ci può anche stare Ho consumato Non so quanti stack Per fare questo pezzo Mi sembra 5-6 stack Direi che ne abbiamo ancora molti Quello ci mancherebbe Però Se riusciamo anche a ottimizzare un po' lo spazio è meglio Allora Con ottimizzare lo spazio Intendo utilizzare meno blocchi effettivamente Un po' cringe Il fatto che qui abbia lasciato questi due pezzi Perché l'ho fatto Perché Perché Qui era più corto Ma era più corto nel pezzo di sopra Il pezzo di sotto è più lungo Ehm Vabbè Poco male Poco male Posso sempre cavarmela Mettendo una striscettina così Proviamo un attimo a sistemare qua E mi piace La parte interna così È bellissima La parte esterna qua Come sempre È molto squadrata Quindi cerchiamo di Smussarla un attimo E vediamo un po' cosa ne esce Perché comunque È tutto un test Diciamo Uuu Sembra molto Molto più aerodinamica così Non so però Se levare anche questo pezzettino qua Proviamo un attimo Sì Sì Effettivamente è meglio Ma possiamo fare Di più Non devo cadere Ok Tipo così Boom È quasi tondeggiante È quasi tondeggiante Mi piace un sacco E ci sono altri punti In verità Che potrei migliorare Tipo Eh Lasciando quelli che cadono in sotto Se gli angolini Li schiavassi uno più in basso Avrebbe delle linee Ancora molto Molto più morbide Infatti Andrebbe fatto anche nel pezzo di sotto Indubbiamente Raga a me così piace un casino Sinceramente Cioè è proprio bella Ora l'abbiamo fatta tutta in iron La potremmo anche disegnare in futuro Tipo metterci una bella striscia rossa Qua in mezzo Che si porta fino avanti Già che è pari Tipo proprio una striscia di due Boom Così Secondo me ci starai benissimo È una figata È una figata Ora qua È troppo piatta a mio parere Potrei schiavare Dentro di un blocco E vedere come viene Anche questa cosa qui Secondo me è molto interessante O poter addirittura Ingrandirlo E fare uno strato extra Se qua scavo Eh no Faccio danni Se invece scavo qua Se va male Proprio becco la stanza Quindi Ecco Non è così grave Dai lo faccio E vediamo se ci piace E ovviamente ragazzi Consigliatemi anche voi Cioè io lo sto facendo È vero che non è in live Questa cosa E quindi non potrei consigliarmi Instant le cose Però comunque Se mi chiedono Guarda che io preferivo Come l'hai fatta La prima volta La seconda volta Robi simili Bene o male si capisce Ecco Quindi qua Rimettiamo il murettino Si tira avanti E verrebbe Scavicata in questo modo Allora Allora Com'è Bella O non bella Non lo so Ho fatto tutto spesso di due Però qua poi spesso di tre Ma è ovvio Non potevo fare In nessun altro modo Cioè È così Potrei anche fare qui Che è un pochettino più lungo E Oddio Ci sta benissimo Ci sta benissimo A del vero poter allungarlo Da tutte le parti Di due così E ci sta veramente Un botto Ci sta veramente un botto Non mi piace la parte finale qui Quindi la levo L'ho provata Ma ecco Questa qua proprio Non mi piace per niente Sì È caruccia Non torna perché Dispare in certi punti Perché qua non l'ho levato Invece questo qui Dovevo levarlo Non ha senso questa cosa Perché non l'ho fatto Ah ok Ora è giusto Ora è giustissimo Diciamo che la simmetria Non è il mio forte Ma all'intento C'è È tutto sommato A mio parere È venuta bene Quindi ragazzi Io andrò a rifare questa cosa Anche dall'altro lato Consigliatemi voi Se vi piace Più in certi punti Che sia interna Esterna Se appunto in generale Vi piace l'astronave Oggi live Andremo a Probabilmente Fare la parte qua dietro E fare le ultime cose E ragazzi Nel prossimo video Che dovrebbe essere Quello di mercoledì Andremo ufficialmente In un altro pianeta Con questa bellissima Lezzissima Astronave Quindi mi raccomando Non mancate Detto questo Avete già visto come verrà fuori Io non mi dilungo ancora Con la costruzione Alle 19 La vedrete completata In live Ragazzotti Mi raccomando Non mancate E quindi Ciao a tutti